L'ultimo suo atto politico, peraltro molto duro, risale ad alcuni giorni fa, quando ebbe modo di esprimere profonda amarezza per il fatto che molti ex consiglieri regionali avevano deciso di presentare ricorso avverso Italia ai vitalizi. Sono stati gli ultimi mesi di grande stress e lavoro per Diego Moltrer, uno dei protagonisti principali della crociata avviata contro gli odiosi e ricchissimi benefici di alcuni ex politici. E' stato stroncato da un infarto durante una battuta di caccia mattutina nei boschi sopra a Fierozzo, paese della Valle dei Mocini, del quale per lungo tempo fu sindaco. Era nato il 28 settembre del 1967, sposato, era padre di tre figli e titolare dell'azienda artigiana di famiglia che si occupa di movimenti terra. La notizia della sua morte ha scioccato l'intero mondo politico regionale e messaggi di cordoglio sono arrivati trasversalmente da tutti i partiti. Tra i primi a voler esprimere il proprio dolore, il presidente della giunta provinciale di Bolzano, Arno Compaccer. Posso dire che col presidente Moltrer non soltanto abbiamo collaborato bene, ma il modo con il quale ha gestito il suo incarico ha fatto sì che siamo diventati anche amici, perché aveva sì l'autorevolezza, ma d'altro lato anche l'umanità nella gestione. Per quello è diventato anche un po' un'istanza morale all'interno del Consiglio regionale. Lei ha già avuto modo di sentire qualche collega a Trentino? Io ho appena sentito il presidente Rossi, che adesso si è recato sul posto e poi ci aggiorneremo. Qual è l'ultima volta che lei ha incontrato il presidente Moltrer? Io l'ho sentito al telefono un paio di giorni fa, poi l'ultima volta che ci siamo incontrati era in Consiglio regionale.